Sono bestie, in altro modo non si possono definire queste persone, penso giovani, quasi sicuramente, perché penso che sia stato più oggetto di una ragazzata, di un divertimento serale, più che un tentativo di vero furto. La speranza è che capiscano che hanno fatto un'azione grave e che smettano che magari si rendano conto che facendo così danneggiano direttamente la loro comunità. Vandali nuovamente in azione ad Arezzo a farne le spese ancora una volta una scuola cittadina. Dopo l'assalto della scorsa settimana alla palestra delle scuole Medie Vasari, un vero e proprio scempio con porte spaccate e oggetti sparsi ovunque, persino un defibrillatore manomesso, questa volta nelle mire di alcuni vandali l'istituto scolastico Santetani. Sono entrati nelle notti scorse, non sappiamo esattamente quando, hanno asportato delle plafoniere, hanno danneggiato il cantiere. Nel mirino dei vandali unicamente la parte della scuola dove sono attualmente in corso dei lavori di ampliamento e ristrutturazione per un investimento di quasi 200 mila euro. Attualmente c'è una ditta che sta lavorando per realizzare due nuove sezioni, quindi in questo momento c'è a tutti gli effetti un cantiere. Di fatto spetta loro la custodia, quindi dal punto di vista economico l'amministrazione rimane indenne, non ha danni diretti, però di fatto il gesto ci colpisce, anche se non direttamente nelle tasche, però sono gesti che ci lasciano abbastanza perplessi. È ancora in corso la conta dei danni. Nelle prossime ore verrà presentata denuncia alle forze dell'ordine.